Ragazzi, bentornati. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Ho quasi il tic di guardare in camera, ma questo è un episodio di backtracking. Ho la batteria pronta. Se ce ne sarà motivo vi prometto che sì, la accenderò, ma ecco, vedete, in un Metroidvania un episodio di backtracking è un atto di fede. La mappa è veramente vasta e non basta camminarci, bisogna essere abbastanza morbosi, archeologici. Non so quanto riuscirò ad esserlo nonostante io sia io, ma farò del mio meglio. È notte e non c'è un momento migliore per farlo, perché in questo caso la stanchezza non è un deficit, è forse l'unico modo attraverso il quale posso riuscire a essere calmo il giusto, ecco, senza correre, perché cavolo, non so cosa riuscirò a trovare. Il mio obiettivo è ovviamente quello che penso di riuscire a fare, è trovare i vermi, perché senza mappa era una speranza. Con la mappa che ci dice dove sono, li becco, in qualche modo li becco. Gli amuleti mancanti, dovremo vedere quanti sono. Anche solo trovarne uno sarebbe per me un grande successo. Sicuramente andrò a provare l'incantesimo nell'aria scheletrica urlante dell'abisso. E per il resto ho controllato nel materiale, ho voluto assolutamente controllare in un vecchio episodio quando ho incontrato la dolente grigia, ho visto anche il nome più corretto. Effettivamente ho capito perché pensavo che fosse la regina l'obiettivo. In italiano parla di una amante femminile e il rifugio della regina, ossia i giardini della regina, ovviamente prima di scoprirli ritenevo che fosse appunto il suo nido, la sua casa, e quindi che l'obiettivo e il soggetto fosse lei. Mi sono fatto ingannare. Ciò non di meno, questo è un episodio che presumo possa essere terzultimo, quartultimo, oppure penultimo. Questo ce lo dirà Hollow Knight. Ma è arrivato finalmente il momento di vedere questi dannati TLC. Cosa sono? Perché, insomma, ce lo siamo e me lo sono ottenuto misterioso fino ad ora. Hidden Dreams. Allora, i sogni di Lido Sacro prendono forma. Due nuovi boss, due nuove colonne sonore, fantastiche sicuramente, anche se non saprei dire quali. Ah, forse guardando le ombre là dietro, uno dei boss è chiaramente il principe, no? Il grigio, Zote. E c'è probabilmente lo sterco raro. Strano che lo sterco raro sia. Un boss extra. Poi c'è il nuovo... Ah, il portale dei sogni è un potenziamento extra. Quindi c'era la Culeo, ma... ok. Nuova stazione dei coleotteri scoperta. Una stazione era stata murata. Nascosta agli insetti e dimenticata dai piccoli otteri fino ad ora. Quella nascosta. Quella che ho beccato. Vediamo che altro c'è. The Grim Troop, ovviamente. Nuovi boss, nuovi emuleti. Uh, quattro nuovi emuleti. Nuovi nemici. Nuovi amici. Nuova musica. Che bella questa presentazione. Molto bella. Halloween 2017. Veramente delizioso. Lifeblood. Ok. Questo mi intriga perché non ho mai capito esattamente cosa significasse. Hollow Knight si rinnova e si perfeziona in occasione del suo debutto su console. Un reame ribilanciato. Innumerevoli modifiche e migliorie ai molti abitanti nel Dito Sacro. Nuovo boss. Cavaliere protettore di un'antica regina. Boss potenziati. addirittura. Che modifiche meravigliose. I segnalini? Cosa? I segnalini sono stati aggiunti nel marzo 2018. Addio li benedica. La mia run sarebbe stata veramente molto diversa. Ammetto che avrei preso appunti con delle foto segnandomi su Photoshop probabilmente perché dinanzi al Metroidvania a me queste cose piacciono molto ma era veramente. Vi ricordate i miei racconti, i miei aneddoti sul mio passato, i miei blocchi note. Però wow. godmaster è abbastanza esatto. Nuovo personaggio, nuova missione. Arriva la cercatrice di dei, spezza le sue catene e aiuta a compiere un antico dovere. Ok. Un classico di questo genere a lungo richiesto. Complata la missione della cercatrice per sbloccare la nuova modalità. Ah, non è quindi il DLC stesso una modalità. Fico. Ok ragazzi, questo ci tenevo molto a farlo. Manteniamo il menu così com'è. Iniziamo la partita. E ascoltatemi. Ho un paio di cose che voglio controllare. La prima è un momento insieme. La mappa. Questa verrà esplorata completamente da zero. Partiremo dall'antro della bestia. E lo faremo esattamente. In questo modo. È una cosa che mi risulta più naturale. Proprio perché almeno abbiamo un angolo da cui partire. E non partiamo da pulverie. I virupi urlanti sono troppo aperti e mediocri. Come intesa. Come come gabbia di esplorazione. Quindi saranno il mio finale. Citando Scraps. Detto ciò. la seconda cosa che volevo controllare erano gli amuleti che porto. Ecco. Sono in disaccordo con me stesso. Perché lasciate che vi dica questo. Un'intuizione. Siamo in blind. Mi fa piacere potervi parlare di tutto quello che penso. No? Prima di avere conferme o smentite. Uno, due, tre, quattro amuleti. Già. Per arrivare a i famosi 40, no? Che richiedeva la nostra cara venditrice. Allora. Ecco qua. Apre la via a un luogo di nascita. Presumo che se e ripeto se l'apertura di quell'uovo nero conceda l'accesso a una nuova area finale sarà lì che si attiverà l'anima reale. Però per sicurezza in un'esplorazione di backtracking potrebbe esserci qualche strano portale che si apra in qualunque mappa di gioco mi vengono in mente il palazzo bianco mi vengono in mente i nidi della regina quell'uovo in cui si entra, no? Ecco quindi portiamolo con noi portiamolo con noi quindi no per carità non fatemi questo ho bisogno della velocità ecco qua così faremo credo che sia una cosa più logica che ne pensate? lo cominciamo questo backtracking? eh? sarà ovviamente tanto accelerato io farò del mio meglio sarò concentrato colpirò molte pareti vediamo dove questo destino ci porta avremo insieme il risultato in un tempo per voi molto più breve di quello che passerò io ma sarà per me un estremo piacere ragazzi bisogna stare attenti 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 soprattutto a non confondere i nostri cari di bistralli esplosivi con altri suoni più importanti ah no non è vero abbiamo la mappa oh 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 abbiamo la mappa abbiamo il controllo abbiamo il potere fellow nice è stato un piacere introdurvi questo video l'episodio backtracking comincia ora un nuovo dialogo beh c'è un motivo per il quale ho deciso anche di partire da qui oltre alla mia mappa mentale i luoghi oscuri tranne nido scuro ma non è vero uno dei vermi era proprio adesso controlla mio buon amico porti il suo luminoso marchio allora forse l'hai incontrata con lei che ha deciso di fare la guardia al marchio la figlia generata una creaturina vivace vero il palido dono al nido e alla bestia uno scambio eco per il sacrificio richiesto da tanto tempo lei è così lontana rallegrerebbe i nostri spiriti se ci degnassi di un ritorno a casa antipatica ho anche preso il tempismo giusto alla fine quello che stavo dicendo è che esatto nido scuro era quello che ho cercato di esplorare quante più volte possibile proprio perché odiavo il luogo ma se c'è un vermino qui vuol dire che probabilmente qualcosa mi è mancato ciò nonostante le zone oscure specialmente questa che superai in un certo modo potrebbero nascondere qualcosa che mi è sfuggito un oggetto oppure probabilmente persino un amuleto ecco insomma so so i luoghi nei quali sono stato un po' frettoloso e so quelli in cui sono stato più morboso quindi ok andiamo what? cosa? ma che cavolo? io ricordavo che in quest'area io credo che in ragazzi è appena cominciato non pensavo di trovare francamente proprio no ho detto proprio cuore in mano di certo non mi aspetto dove di trovare qualcosa è solo uno shortcut però questa maschera è nuova ed è molto interessante perché la mappa è completa e io so che in quest'area ho sempre evitato quelle creature perché ero troppo debole per affrontarle quando però no non è solo uno shortcut è un è un percorso parallelo probabilmente potremmo trovare qualcosa qui che cavolo questa vedete siamo al centro siamo al centro di due ambienti ma e ora siamo tornati quindi in realtà quella maschera l'avevo vista sì è che era talmente concentrata in un'inquadratura stretta in quella mappa in quella insomma in quella parte della mappa siamo seri ma che cavolo persino un altro passaggio peccato ma per carità ero abbastanza ehi l'avevo fatto apposta ero abbastanza consapevole che partire da qua mi avrebbe dato soddisfazione non noia ma più per mood personale perché mi ricordavo di essere stato un pochino spaventato ma ok persino un caricamento ma no ma no forse sto ne è soltanto uno strano shortcut ok ok per carità è stato è stato interessante ma dovrò stare un po' attento è stato molto interessante però perché mi ha fatto capire come effettivamente in questo ambiente io sia stato molto impulsivo what ok ragazzi wow peccato che sia ascesa l'avrei resa molto molto orgogliosa molto orgogliosa ci vediamo più tardi questi alberi non vale la pena vedersi più tardi in questi casi salve eh questa 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 ambientazione nasconde molti shortcut e lo capisco lo capisco molto ok 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 ho sentito il suono di un'area nascosta abbiamo rotto una parete what cosa non andrà molto così l'episodio vero sono abbastanza turbato perché una cosa che volevo dirvi con tutto il cuore era la sensazione che il backtracking in un in un metroidvania è anche più frustrante perché non hai l'esperienza a darti un bonus ok è completato a darti un bonus che in qualche modo ti faccia sentire premiato no non stai expando il denaro non ci serve neanche più per comprarci una casetta d'oro perché non possiamo farlo questi alberi delle essenze sono una bellissima chicca di level design veramente perché sì forse avrei colpito qua il backtracking ma solo perché c'è un nemico però cioè figo mi ha condotto direttamente dai boss fight nascosta è una versione antro delle tessitrici ok questo è più importante di quanto pensassi cosa ragazzi mi sono spaventato per le mie efficienze sono caduto questa sarà difficile con il doppio danno quella cosa potrebbe animarsi quindi io starò molto attento le odio odio le uova raccide le trovo molto deludelle tranne Gigi a lui piacciono doppi danni quante bossa ha questo titolo R sono sono le tessitrici morte guardate a me non dispiacerebbe neanche se fosse una chiave piccola quella laggiù non ci credo canto della tessitrice un amuleto su quattro che ci mancano ne abbiamo trovato uno così presto all'inizio del backtracking amuleto setoso che contiene un canto d'addio lasciato dalle tessitrici che partivano da Nido Sacro verso la loro vecchia casa evoca piccole piccole tessitrici che offrono una chiusura di dossa compagnia e protezione si possono creare la vera build minion è questa allora si aggiunge a questa wow wow ok ok oh c'è un altro segreto ti prego ti prego non scomparire fatemi seguire dimmi che ci sei dimmi che ci sei ok io torno intorno della sognatrice ricomincia l'accelerazione magari la troviamo la aha ah qui c'era qualcosina adesso io con l'accelerazione sicuramente non potrò mostrarvi grande caparbietà nell'esplorazione perché sarà quasi invisibile a causa ovviamente delle percentuali di speed up enormi però il tempo passa e questo è un vermino molto infame molto infame perché avete visto che durante la run io colpetto abbastanza le pareti ma qui c'è molto rumore quindi non puoi neanche sentirlo diciamo anche se probabilmente non te lo farebbero sentire comunque perché in un altro ambiente cosa è arrivato il momento la mia opportunità ok non hai sogni fai schifo fai veramente schifo per fortuna interessante c'è la differenza spegniamo la nostra pistola fumante interessante tra l'altro quell'app lì ok allora andiamo non so perché ho detto quell'app non ha niente non significa nulla nessuna lingua e questa è fatta e questa è fatta ho trovato qualche piccola moneta prima perché ho potuto fare double jump dove un tempo non avrei potuto ovviamente vediamo caverne di foliggine sì ma comunque non l'ho mai utilizzata quella ho capito delle cadute da una raffa all'altra che non vengono calcolate dalla dalla piuma va bene chiarissimo è il cratere ok ora devo esplorare qui qui scendere qui tutto qua bla 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 poi boom tutto 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 andiamo qui facciamo la nostra cosa questo lo farò ma proprio non dovrei poi alveare vermino e da qui pam si passa le idrovie si sale avete capito ragazzi villaggio delle mantide finalmente caverne fungine i giardini della regina e poi boom canyon nebbioso città no ok tutto chiaro già oh boy oh cos Oooo Vi sembro buio in volto? Non ho acceso le luci È voluto Abbiamo un mood diverso Più mediocre sicuramente Allora Io continuo a ripetere Ammetto con totale sincerità Che non avevo grandi aspettative Per questo backtracking A parte ovviamente il poter completare finalmente i vermini Ho segnato in quest'area Che devo ancora passare Perché in questo inciucio Alla fine ho deciso di scendere E beh risalire era praticamente un parto Che non volevo assolutamente riaffrontare Visto il mio piano a zig zag E Cosa ha aperto questa Questa cavità Il faro acceso? No Non credo Noi eravamo tornati qui Dopo aver ottenuto il dash oscuro Sicuramente Può essere successo Dopo aver Disattivato tutti i sigilli Questo sì Però i sigilli sono arancioni È l'infezione Non lo so Non metterei i miei soldi Non scommetterei sul sigillo reale Cioè il sigillo reale Non è Da escludere Perché Stavo dicendo Che ci farebbe mai Un segreto così assoluto Rispetto all'anima Del re Dell'uroverme In un postaccio Come la discarica dei gusci Che sta utilizzando E ha utilizzato per il suo piano Però Qui ci si arriva Attraverso La chiave Che si ottiene dal suo cadavere Quindi Non lo escluderei Ed è per questo O meglio no Questo è un ragionamento Che ho fatto adesso in tempo reale Ma È quando ho visto Questo ambiente Visto che ci siamo noi Là dietro Che ho deciso di accendere la camera Quindi ragazzi Sono Oh Quindi ragazzi Dicevo Non Non mi aspettavo Non mi aspettavo In backtracking Di trovare così tante cose Uniche Il mio obiettivo Più Più Pugnato Era trovare una chiave Per aprire la porta in città Oltre ovviamente Al completare Credo La quest Dei nostri vermini E il tempo È molto distorto Perché Per lustrare Un'area È veramente molto lungo Però Wow Wow davvero Ragazzi L'atmosfera è Molto pesante Molto Potrebbe esserci Davvero Stavolta Una Una boss fight Segreta Che ovviamente In quel caso Finirà Molto male Non mi stupisce affatto Trovare un uovo Arcano Qui Ok Strane queste cavità, queste piccole grotte. Geniale. Grazie a tutti. 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 Il vuoto è l'ultima espansione? Grazie a tutti. 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 degli amoletti dicendo ah ma quindi ci sono due vie cavolo ma qua è tutto chiuso ci sono due vie quella dell'anima reale e quella dell'oscurità due soluzioni per un finale che può essere quindi deciso e invece no è mutato è mutato questo backtracking è simbolo di qualcosa di molto interessante sapete in questa run non potrò mai dirlo io onestamente tutt'al più adesso che sono a caldo e non ricordo molte delle mie scelte ma probabilmente potreste dirmi che ho avuto delle buone intuizioni, delle buone esplorazioni talvolta, magari entrambe le cose ma questo backtracking dimostra o meglio, dimostra, detiene un primato speciale è la festa dei non ci avrei mai scommesso perché perché fondamentalmente non ci avrei mai scommesso che il portale utilizzabile oh il portale utilizzabile con quella ops con quella muleto fosse nel gioco base però forse sono anche influenzato da caratterialmente immaginare che ci sarà un'area finale oltre a quell'uovo non lo so lo scopriremo insieme lo scopriremo insieme questa è l'esplorazione base del palazzo dove abbiamo trovato poi la metà che abbiamo con la quale abbiamo aiutato la regina non ci saranno particolari segreti qua quindi non che io ne veda almeno le pareti bianche mi ispirano una certa repulsione non trovate? dopo tutto onestamente adesso noi rappresentiamo cose molto lontane dal bianco andiamo via e continuiamo questo zig zag folle grazie a tutti Grazie a tutti Ce l'ho fatta Cavolo questa senza mappa La devo dura Questo era un bel Questo era Bello infognato Prego piccolino Prego Lo so Sembra strano In un'accelerazione vedermi sospirare Lo capisco ma credetemi È lento Un episodio come questo da fare È lento Ok back to work Avrei voluto mostrare questo al fabbro Per esplorare queste aree Mi sta facendo riflettere su di lui Mi dispiace di averlo ucciso Nonostante fosse il suo ultimo Perverso desiderio E se c'è un punto in cui avrei mai pensato L'amuleto dell'anima reale potesse funzionare fuori da un'area successiva a questa Verticale Nell'ambientazione quindi successiva Successiva proprio a livello di trama non raggiungibile adesso dopo l'apertura dell'uovo era questa Dove tutto un luogo di nascita c'era scritto vero? Quindi sì ovviamente quello è il nostro uovo là sotto E non ha mappa E non può essere cartografato Però D'impulso un luogo di nascita Io ho riflettuto su questo qua E invece Già Piccolezze ma intanto si prosegue Voglio cambiare build Intanto Oh Questa era una parete visibilissima Oh Aspetta Cosa? Ma veramente è soltanto un Credo di sì eh No No Beh ti fa capire quanto è enorme Oh Stupendo Stupendo Che chicca Adoro Questa è proprio sfuggita Non era nascosta in maniera particolare E non avrei potuto raggiungerlo E non avrei potuto raggiungerlo Ammetto che una parte di me stava pensando quasi che avrebbe avuto effetto quella oscura invece sul corpo del loro verbe Ma a quanto pare Ma a quanto pare Sì questo episodio è quello delle aspettative Non direi affatto infrante ma Trasmutate Ops Sapete che di questo passo la mia esplorazione sta risultando essere precisa eh O almeno precisa Per quanto riesco Tuttavia Potrebbe richiedermi ben più di un giorno O meglio Ben più di una notte Qui Accanto a me potrebbe sorgere il sole Prima che l'episodio finisca Eh sì Non sto sottintendendo Che non ci dormi su eh Ma semplicemente che dividerò la mappa Metà stanotte Metà domani a una certa ora Qui me la sto prendendo abbastanza comoda Non sto tocchettando ogni parete Perché ho memoria Di averla Abbastanza mappata Anche se Quel muro di prima Mi ha un attimino messo Qualche brivido Quindi Dovrò rallentare il passo anche qui Ops Fight Ragazzi È arrivato il momento per me Di raggiungere Il colosseo Cosa? No Ma questo ne Mi è venuto un brivido È morto Così Il suo scudo Mentre stavo esplorando Il percorso O meglio In realtà Stavo spostandomi Verso il colosseo Cercando di fare Del mio meglio Mi stavo quasi distraendo Perché la parte bassa L'avevo esplorata Con molta cura Mi stavo spostando Magari Non è stato in grado Di capire esattamente Dove ho smesso di esplorare Con cura Quindi stavo anche muovendomi Abbastanza in fretta Ed è successo questo Che triste fine Che personaggio Cupo Cupo Appena arrivo Appena sgamo qualcosa E può essere anche Uno dei prossimi bruchi Voglio dirvi una cosa Che Fa parte Dell'inaspettatezza Di questo episodio Perdonatemi Il linguaggio Forse un po' Mediocre Ma sono ancora convinto Che Star registrando A notte fonda Sia molto Molto utile Per la mia esplorazione Può distrarmi un poco Eh Ma contemporaneamente Mi permette Di trovarmi In una situazione Nella quale Che so che questa È l'atmosfera giusta Per farlo Ma non l'avevo mai vista C'è della luce qua Che cacchio Sarà divertente leggere I commenti Degli episodi Sul Colosseo C'era C'era un'evidentissima Luce Qui a destra Oh cavolo Mattiso No Cos'è successo Ha perso Il torneo Si è provato Ad allenare È inciampato Combattendo È stato veramente Ucciso Da quei poveri mostri E qui Con tutti questi corpi Che è Barbarico A questo punto Vi dico Quello che volevo dirvi Anche se Wow Guardate Dove siamo Cavolo Questa è una cosa Grossa Ecco Volevo dirvi Che prima Nell'accelerazione Non so quanto si vedrà Ma ho fatto Un percorso Su tutto il bestiario E sapete Che ero abbastanza Convinto Che nella Blind Run Il bestiario Lo avremmo Probabilmente Concluso Nell'episodio Extra Post Finale Quando avrei fatto Il completismo Delle cose Che non ho trovato Blind No? Come ho fatto Consulting Sanctuary E invece Credetemi Manca poco Completamente In maniera naturale A parte il fatto Che ho ucciso Qualche Apona Prima Basta Veramente poco E E lo faremo Penso proprio Che in questo episodio Così speciale Lo faremo Il tempo per me Passa Ogni volta Ogni parola per me È mezz'ora 40 minuti Probabilmente Alla fine Ho il counter Della registrazione Ho il timer Quindi ho il timecode Quindi lo so benissimo Quanto ne può passare Ed è quello Però Non dovrò ripetermi Nel dire Che non mi aspettavo Tutto questo Ma Questo è Può essere L'antica Arena Qualcosa di più Più barbarico Ma in maniera Diciamo La virgolette Positiva No? Qualcosa di più Storico Guardate È una sorgente No Certo che questo È praticamente Un luogo sacro E la tomba Del loro verme Viene utilizzata Per questi giochi Una gabbia È un guerriero Che cazzo Non so che ha fatto Alle vostre cuffie Ma mi ha spaventato È scappato Sì Essendo un luogo Così speciale Dietro il Colosseo Ammetto che mi aspettavo Una molita la battaglia Ha un tesoro In mano Oh Midboss Diventerà Aggressivo Per caso Un'arena Di inseguimento Altro che se lo è Si capiva Vero È un cerchio Cioè È un percorso Ok Vogliamo giocare Sono più veloce Di te Devo colpirti Volevo provare Volevo provare A passarti attraverso Ehi Ehi Ho capito D'accordo D'accordo AHP E sia Sì 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 Ho troppo range con il Ho troppo range con il dash Lo so che negli scorsi episodi mi sono pentito di combattere non seriamente Ma utilizzare l'attacco speciale Della culio col dash mi piace un botto in questa idea Oh Avevi un'arma Un amuleto che non potevi equipaggiare Non hai ricordi Non hai sogni Non hai anima Oh No You don't say Una chiave Campionessa Dimenticata Ma questa era la mia ossessione Non ci posso credere che riusciremo a Ma chi segue il mio canale? Gli episodi backtracking Cioè sia quello di Sekiro Sia quello di Hollow Knight Stanno dimostrandosi Ben oltre qualunque mio sogno Aspettativa nel contenuto Parlo proprio del contenuto di gameplay Del riuscire come giocatore A ottenere qualcosa che Insomma mi sentivo abbastanza Wow 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 Comincio ad avere No non è vero Fiducia Questi affari Ne mancano così pochi E' terribile E' terribile E' terribile Ah Se qualcuno di voi volesse vedere La mia famosa build Attuale E' questa Nulla di troppo complesso Ho deciso di avere colpo pesante Per rendermi la vita più semplice Teniamo i nemici alla larga No? Wow Vedete che bello Quello era un muro invisibile Chiamiamolo così Assolutamente impossibile Da vedere O da intuire Ma ci hanno messo la luce Ok Ora Casca a fagiolo Perché è arrivato il momento della città Ah ok ok Per un attimo Avete visto Mi è sembrato di Non poterlo superare Mi sembrava molto strano Ma ci siamo E' una sorgente Ok In effetti ci sono un po' Di sorgenti In Hollow Knight Oh La cantrice Marissa Una voce in grado di liberare Da ogni angoscia Dalle pace Alle menti turbate Volevo che fosse un amuleto So close Dentro una chiave Mannaggia Ce l'avevo creduto tanto Però Abbiamo a che fare Forse con una delle cose Più opulente Mai viste Fino ad oggi Una sorgente Presente Sul tetto di un palazzo Con visuale Sull'intera città Da batticuore Oh Ah Ah Oh Attenzione Un cuoco Gli insetti sono cannibali dunque Bene Poggi, Thorax Acci d'erbolina Sei davvero magro Un ingarlino direi Oh beh, così deve essere Temo Guarda me invece Un grande, grosso, grasso, succulente Succulento, volcicante Delizioso insetto Non ce la sorprende se sono così ben voluto Oh cavolo Davvero? Quindi le uova arancili vengono da qui È da molto che attendo Di sicuro sarà quasi ora di cena Avete visto quanto si nasconde In quella che poteva essere di gameplay Soltanto una sorgente rigeneratrice? Cioè Hollow Knight ragazzi Hollow Knight Cazzo è una torre questa, oh no Aspettate 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 Eh 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 Casa del piacere Davvero Marissa è viva Certo Non credo si parli di un casino Qui si parla di un piacere Molto più legato Eh Non è Detto In effetti Ricordandoci Della buona Bretta Penso che il linguaggio Sia abbastanza maturo In Hollow Knight Ahà Beccatissimo Una Una continua sorpresa E secondo voi Avrei potuto raggiungere questo luogo Anche senza Romperlo dall'interno Credo di no Credo proprio di no Oh no È morta Era una maglia Pita la luce Marissa Andiamole il riposo Che malinconie E adesso Dando per scontato Che questa Possiamo risparmiarcela Si prosegue Si prosegue Penso che Possiamo ancora fare un po' Prima del riposo A Siamo noi Ricettacolo Detta così Sembra che All'interno Dell'uovo Ci sia il Vecchio Cavaliere Vacuo Che ha assorbito L'infezione In quanto appunto Vascello Vuoto E restato Sigillato Però allora Io non mi spiego La nostra genesi Perché stava facendo Benissimo Il proprio lavoro Quelli sono i tre Sognatori Il Cavaliere Vacuo È il sacrificio Il quale Ha salvato Nido Sacro In maniera Però comunque Infelice Perché Sono diventati Vuoti Sono diventati Privi di senno Eterni Sì Ma non Vivi E quindi A che servo io Cioè per quale motivo Dovrei entrare Al posto Del vecchio sacrificio Perché si consuma Ogni tot No Non credo Il sigillo Era molto Solido O forse No Era Un pochino Rottino Oh beh Diamogli Tutto ciò Che abbiamo È una rara fortuna Possederne due I miei colleghi Moriranno Di invidia Anche se Il mio portafoglio Si è alleggerito Ci sono anche Delle statue Antiche Che sembrano Depositi di anime Forse le avrei viste Anch'esse Seppure in forma Più grezza Sono la prova Di un'epoca anteriore Anido Sacro Stupisciti Stupiscimi Oh Paul Un terzo Uovo Arcano Devi essere Un esploratore Eccezionale Per averne trovati Così tanti L'uovo è una perfetta Forma di protezione Anido Sacro Incidiamo su testi I testi I testi su pietra Sulle tabolette Queste uova Sono molto più sicure È tutto conservato All'interno Oh Paul Oh Paul Oh Paul Oh Paul Mamma mia Ne ho ancora Sette Ora ne ho davvero parecchi Quando avrò il tempo Ragazzi Tutti i dialoghi unici Dopo che abbiamo visto I 57 precetti Di zote Devo dire la verità Che non dovrei stupirmi Ma mi stupisco E li premio Ne ho ancora Ne ho ancora Ah Visto Abbiamo raggiunto Il cap Eh eh Grande Hollow Knight 9 Va bene 9 va bene Direi Non dovrei Non dovrei Sei un collezionista di talento Il migliore che abbia mai conosciuto la mia dai ai 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 un idolo del re spesso mi sono chiesto quale fosse il vero volto del re le descrizioni parlano di una figura imponente e luminosa con una corona fieramente ornata di corna e io credo che la sua immagine sia stata fortemente abbellita un soprano che vuole essere venerato tende a nascondere i suoi difetti non può apparire come un insetto qualunque e quindi immagino che ce ne saranno altri ma sapete che questa è la volta buona che diamo del denaro alla banchiera la riempiamo di soldi e poi andiamo dentro l'uovo così mamma mia vabbè velmi archit velmi archit ammetto di ammetto che avevo sperato che qualcuno prendesse il suo posto che trovassimo un insetto qui ho visto che però bene o male tutti gli insetti hanno un dialogo unico adesso che siamo diventati questo e probabilmente non si riferiscono ovviamente al cuore vuoto ma all'aver assorbito i sognatori quindi per quanto non ho ascoltato di nuovo mi pare che in blind ci ho parlato col coleotter in città però potrei sbagliarmi sarò felice di tornare a discutere con altri NPC che ricordi di aver affrontato e incontrato nell'esplorazione infatti ora andremo nelle trovie reali e c'è un cerco un certo guerriero che tiene sicuramente moltissimo allora è vero? vediamo un po' non c'è un po' non c'è più ragazzi non c'è più ragazzi non c'è più ragazzi non c'è più cavo la prima parte del nostro percorso si conclude qui per voi sarà tutto molto fluido per me ci sarà una notte di riposo in mezzo sto diventando quasi paranoico perché vedete questa cosa qui mi dà l'impressione che sia nuova e probabilmente il sonno perché non riesco a capire che cos'è quindi non posso neanche interagirci quindi non non è niente ho trovato questi affari chiusi per farvi capire qui ovviamente abbiamo una cosa molto importante ma ci torneremo certamente adesso ho fatto per ora abbastanza nido scuro antico bacino alveare frontiere del reame città delle lacrime e idrovia reali domani avremo tutto questo però ricordiamoci che pulveria e i dirupi urlanti sono abbastanza veloci le terre del riposo possiamo considerarle già fatte abbiamo mappe abbastanza anziane che quindi riesplorare sarà molto 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 importante sono comunque già tanto soddisfatto dell'esperienza a tra poco per voi yep a che serve per vedere un declino inevitabile io qua sto proseguendo ragazzi ho rotto un paio di travi di legno per aprire uno shortcut niente di particolarmente importante però piano piano sto riscoprendo tutti i vari misteriosi dormienti NPC di questo mondo una cosa su cui il tempo mi sta facendo riflettere ovviamente perché c'è molto silenzio in partite come questa è forse un'ovvietà che non mi era venuta in mente se se uccidere poverini uccidere insomma se assorbire in realtà se assorbire il primo dei dormienti o comunque allentare quel sigillo no ha distrutto i sentieri dimenticati e se e se quella creatura che abbiamo visto soggiogata dall'infezione era effettivamente tale ossia sconfitta da questo malanno terribile è probabile che in realtà se l'avessi trovata prima sarebbe stata o una mid boss fight o molto 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 più probabilmente un mpc che poi sarebbe che ah figo che poi sarebbe morto però non l'abbiamo trovato in tempo per il resto si continua ora devo fare tutta la parete l'ho già fatta la parete sinistra ok abbiamo dato che cavolo che spavento questi shortcut sono fichissimi ma non non li ho trovati in blind non me li aspettavo ok 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 per un attimo pensavo di aver trovato in diretta una figata più o meno più o meno andiamo fino in fondo devo essere minuzioso in questo percorso non si può non si può saltare nulla vero? ok ok uff uff si prosegue goccia goccia purtroppo eh eh ah peccato speravo che fosse uno degli oggetti con i quali forse non abbiamo ancora finito tutti i dialoghi del compratore ok ragazzi piccole e grandi cose ma si continuano a trovare via allora sono pronto deposita limite denaro 4.500 ok ti darò tutto quello che vuoi chissà se ha una questa anche lei esci si prudente niente è molto 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 probabile che sia solo una una feature eh tra l'altro è dolcissima vediamo un po' se cambia il dialogo ma è una banca cioè ok riprendiamoci i soldi voglio ritirare 1000 esci ok perché il mio dubbio ovviamente era se magari utilizzando i dialoghi o utilizzando lei potesse aumentare la la possibilità di deposito o magari pagandola facendo qualcosa per lei no e vabbè e allora beccati sto cap fammeli ben fruttare stigeo e alla prossima via via che cavolo è questo è dove stava cornifer l'uroverme degli insetti diventa il signor ma col tempo i regni cadono con dolor gusci e carapace diventano un segatura ma nonostante ciò il signor fungo perdura oh 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 perché se i tuoi pensieri sono così chiari mi fai versace Sono proprio frasi diverse Poggi Se fossimo all'inizio del gioco direi Che servirebbe un oggetto chiave Un dizionario Qualcosa per capire che dice Ma in fase così avanzata E' una quest che ci siamo persi No, lì c'era cornifer Me lo ricordo molto bene Ci sono anche i fogli Interessante Voglio andare a controllare ora Quindi se è in altri posti di cornifer Anche se in realtà un paio ne abbiamo già sorpassati Ovviamente Vedremo Ma veramente Ero convinto di star facendo una fesseria Per fortuna che Per fortuna che non Non ignoro nulla che penso di aver già visto Qui non c'è nulla di Ah forse Forse era per il nuoto Che avevo Chissà L'avevo rimandato Forse Un amuleto Ma che veramente Ma qui Fungospora Un amuleto Ma come è possibile Ah forse perché Possibile 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 che ho fatto il percorso verso l'alto E ho pensato che cadere fosse una sconfitta Così C'era anche il vermino sopra Fungospora Allora c'è che direi che fa una cosa simile a Quella Dell'odore Composto di materia fungina vivente Libera delle spore quando viene in contatto con le anime Vabbè è da provare Sembra che ci siano Delle sinergie fighe Libera delle spore quando viene in contatto con delle anime Ok Cioè Un amuleto Non 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 l'aspettavo Proprio 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 no Proprio no Per quanto effettivamente Si capisce quando stai per trovare Un diario o d'altro Effettivamente un amuleto qui Non Non me l'aspettavo Ok Qui c'è la caduta libera Molto bene Qui Finalmente faremo un po' di cosa Questo ve lo risparmio Anche se ormai abbiamo praticamente 3000 essenze Altra che 2004 E poi qui Cerchiamo un passaggio Anche Ah Forse il più probabile di tutti è qua Che fa tipo zap zap Vabbè Intanto ce lo siamo segnato Ok Andiamo ragazzi Ciao a tutti Quindi fa un dot E' molto interessante Quello che potrebbe succedere Con le altre combinazioni di amuleti Pensateci Minion Con diversi potenziamenti Che accumulano Quindi il risultato di poter anche avere spore Intorno a loro Viene voglia di provare a tornare dal fungo gigante Quello addormentato E provare a fargli tipo questo Per risvegliarlo Però Lo farò in accelerazione Se succede qualcosa lo saprete Stavo per dire che però non ne vale la pena Ma assolutamente no, non posso essere così sciocco Ha raccolto un fiore bianco Oh no Potremmo provare a riportarglielo Però ora Ecco E riappare sempre Ehm Oh no Oh no Abbiamo 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 Impulsivamente rovinato Una cosa preziosissima Cioè La possibilità di 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 ottenere qualcosa Non lo so Portando fiori bianchi Ad altre persone O un fiore bianco Ad un altro NPC O portandoglielo a lei Respawnerà anche il fiore bianco Secondo voi Ma forse basta cambiare area Dai 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 che torna Fiore bianco Dai che torna Dai che torna Ok 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 Ben Credo proprio che lo romperemo Ragazzi Però Che bene Sarà estremamente curioso Provare a donarlo a Diversi NPC Tipo chi Tipo chi Tipo chi I Zelda Il curiosone di storia La cicciosa Che vende gli amuleti Potrebbe essere un'ottima idea L'anziano L'anziano Eh la La veggente non c'è più Non mi vengono in mente Altre E' comunque sempre un viaggio E' comunque sempre un viaggio pazzesco Per ora però non è la priorità Se prenderò danno Non mi dannerò Decisamente Ok Let's go Uh Abbiamo trovato qualcosa Aia Tipatica Ah si sta salendo abbastanza Oh si invece Goccia Trovato E qui si passa Ah era bellissimo Dai era perfetto Utilizzando l'attacco in salto Sull'insetto Potevamo magari entrare qui Era un'ottima seconda entrata Secondo me If I do say so Ok Possiamo rimuovere Parecchi appunti qua Nice First try Perfetto Perfetto Il fiore ovviamente è polvere ma Lo porteremo a qualcuno Lo porteremo a qualcuno Non manca Non manca nessun vermino Cavolo abbiamo finito Ci manca da esplorare Ci manca Tutta No veramente no Questo Questa parte alta Verdevia Questa Eh qua Ok Sentieri Piccoli cristallo Dru di lupi Verdevia Nella parte alta Dei giardini Passando per il canyon Nebbioso Carina questa cosa Non mi ricordo se l'ho fatta In blind run Molto carina come shortcut Quindi forse questo Non l'abbiamo letto insieme Protettrice della radice Della foglia Noi ti onoriamo Non ho Non ho parlato in tempo reale Qui perché mi ricordavo Di aver letto Invece probabilmente Se quello è il shortcut Non l'abbiamo trovato Sì sì È vero È del tutto plausibile Che Quest'area No l'abbiamo L'abbiamo fatto per forza Sono io Un pochino rintronato Ma non voglio tagliare nulla Fa parte del backtracking Che meraviglia di Melodia Il modo in cui le mie azioni Hanno contributo a ciò che è successo Grava su di me E questi vincoli Assicurano che la cosa Non si ripeta Vedi Sento ancora Quell'impulso Lo sentirò sempre Una vorace Un vorace desiderio Di diffondermi Su questa terra Di propagarmi Di riprodurmi Pianero Quel pulsante vuoto È davvero stato trasformato Da ciò che gli è stato rivelato Ma Prova qualcosa Siamo noi Trionfo Odio Se è così Non riesco a percepirlo Il destino di Nido Sacro Ora appartiene a te Che poi Ragazzi Io non accendo la telecamera Perché Adesso non ne vale la pena Ma ho un sorriso in faccia Vi faccio una previsione Perché Cioè dai Siamo onesti Mancano solo due amuleti E io ho due obiettivi Per questa run No? Per questa partita Andare A completare La quest Dei vermi E il bestiaio Non lo so Riesco a fare uno più uno Che ne pensate? Forse Forse no Perché effettivamente Sono entrambi premi Troppo avanzati È più plausibile Che esattamente come Quali erano? Lui E lui Io me li sia persi Per strada In una quest In realtà le quest Non abbiamo più ritrovato Brett Tiso l'abbiamo trovato Sì Cioè se non vorrei confondere Tiso con l'altro guerriero Quirrell Tiso è Quirrell Quirrell è Tiso Ok Quirrell è l'antico Guerriero Che è stato Addestrato Per mantenere il regno Mentre Tiso è Il Fanatico del Colosseo Che è morto Vero? Comunque al di là di questo Sono premi forse Troppo avanzati Troppo da endgame Dite? Completare I vermi E Il bestiario Forse Completare il bestiario Sarà una boss fight Segreta? Una omega weapon? Uscirà dal nido Quel mostro? Può essere Può essere Ma Fa parte della blind Andirvi i miei pensieri Le mie lucubrazioni Andiamo Comunque ce ne mancano due Non ho Onestamente proprio Fiducia di riuscire a trovarli Se Questa mia teoria è sbagliata Ma ne mancano due E Comunque Wow Wow Let's go Uff No no Me ne basta una Ok Ok Niente fungo Ok Quindi non sono funghi Cresciuti Dove Cornifer Si spostava E magari c'era una strana E mi sono fatto flash Magari c'era una strana Rivelazione Su Che so L'inchiostro Che utilizzava Per fare le mappe O Magari La sua Reale identità No E invece no Quindi quel fungo è un NPC È lì per un motivo E io Non so qual è Mannaggia Ma per carità Non tutti gli NPC Abbiamo visto Hanno un motivo Di essere Però che sia apparso Dove prima non c'era Quella è l'unica cosa Che mi fa Un pochino Non buttare Insomma L'amo Cioè non Non tirare via La canna Come va? Ah Bezz Pura papiss Ti rimangono solo Poche bestie Da rare Da cacciare Comprete il diario Guadagnati la sua sudata Rico Santo cielo Mi vuole mangiare Dai dai Omega Weapon E ci manca poco Il bestiario Ormai Comunque Cioè dobbiamo leggere bene Poi il codex Ce lo leggiamo Ma vediamo un po' Quelli che mancano Scrollando molto velocemente Ok Uno scarafide di cristallino Solo? Ah no Ok 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 Infatti Perché mi ricordavo Che mancavano I tizi Con il guscio duro Su cui si può rimbalzare Volanti Perché quelli Mi sembra solo in un posto No? Vediamo un po' Abbiamo Quindi Il muschioso Eh infatti Ok L'impervera Era troppo veloce Magari basta Sbattere le palpebre E le perdi Cinque loro Cinque loro E forse Ora abbiamo finito Se con Esatto Esatto Ok Il relitto cristallino Ah Vabbè Nelle distese urlanti Giusto? Ovvio Ovvio che non abbiamo Uccisi abbastanza Di questi Ok Quindi l'unico Backtracking Che andrà da farsi È a nido scuro Il resto È fatta Ok Let's go Ops Si prosegue ragazzi D'accordo Mike D'accordo Firm 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 Oh Nice Ok Ragazzi Allora Io non so come Vi sentite In questo episodio Allora Io sto Con le sinapsi Incrociate Siamo arrivati a Sette ore Credo circa Adesso ho fatto È un altro giorno Rispetto a quando ci siamo salutati Ovviamente Però Ecco Mi sono messo a colpire Molte Molte pareti Sospette come questa Che magari dall'alto Ci porterà giù E In realtà Appunto Mi sto rendendo conto Di come Tutto sia Estremamente esplicito Cioè Le pareti Sospette Non sono da rompere Di solito Sono quelle da superare Perché In realtà Non sono pareti E Uh Wow Wow Non vi sto facendo vedere Proprio tutto Allora Praticamente Ho fatto un certo percorso Sono arrivato fino qua Ho esplorato qua Non ho trovato Le creature Che pensavo fossero qui Quindi Nel backtracking Anni d'oscuro Quando torneremo Per uccidere I mostracci schifosi Quelli forti Con le chele Faremo un giro Forse Forse qui O in queste aree aperte No questa non è l'area aperta Questa è l'area aperta Vero? Perché mi ricordo Che l'ambiente Era essere buio E c'erano quelle Larve Sputa larve Chiamiamole così Però Sto raggiungendo Un livello di saturazione Di questo backtracking Mamma mia Rischio di essere Meno efficace Ammetto Che potrei risultare Meno efficace Speriamo di aver scelto Il percorso giusto Boom Oh oh No 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 Ok Allora Cosa si nasconde Qui Aiaia Aia Ah quello è un pavimento Posso appoggiarmi Ah ok Ok Non è un pavimento Allora Allora Forza E coraggio Che qua rischiamo Un sacco Ah ok Eh ma Eh ma Ehm Cavolo Ah Sapete cosa Ho un'idea Molto acuta Cavolo Eh ma Cavolo Se è ampia Un passaggio da pulveria No lo abbiamo No dai terreni No 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 Qua c'è un tesoro Qua c'è un tesoro Questo Ah Già E' quello che sembra Vero Ovviamente Tac Tac E Eh Boom Raga Questo puzza di amuleto Ma veramente Non ci credo Le anime Verranno concentrate Più lentamente Ma l'effetto curante Sarà raddoppiato Quattro Eh è fatta No no Li abbiamo presi Per forza tutti Questo sarà Un potenziamento Di questo Perché viene Dai vermi E infatti Il bestiario Sarà Omega Adesso io sto facendo Speculazione ma E questo sarà Assorbe le anime Assorbe molte anime Quando si viene colpiti No Mi seguite no Io pensavo che il mio record Di best Backtracking episode Sarebbe stato Sekiro Non è così Wow Wow Però non ho finito Devo andare Qui 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 Al poggio Scendere Onestamente Le tari del riposo Giusto Solo qua Doviamo andare Una volta Una volta per tutte Fare stragi Poi ovviamente Qui Oh cielo Ce la faremo Li finiremo Potremmo comprare Oh mamma mia Ok Ok Sei vermi Sei vermi Sei vermi Maledetti Non mi danno un amuleto Vabbè Io Allora Non ci credo È quasi finita Squa sono Ah è vero Qua non ci sono Mica andato Infatti Qua ci sono I gusci Volanti Credo Però qua Non ci sono Tornato Mamma mia Verete che sto Perdendo colpi Qualche parte Non No ma il resto L'ho fatto No no È tutto Sì 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 Sontuoli di pietra Ok È fatta È fatta veramente Abbiamo finito Abbiamo finito Ci manca pochissimo Uh Grande Ok Ok Allora Eh lo so Lo so Per voi non è niente Ragazzi Io Io ho il cervello Che gira Mentre esploro Ora mi sono ricordato Dove sono le larve Schifose Mi ricordo Che c'era Il treno distrutto Sono qua Sono qua Sono qua Guarda Pem Oro Sono qua Sono qua Sì sì Che c'è anche Il passaggio Me lo ricordo Quello bloccato Perfetto È fatta Ok 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 Vabbè che Giunti a questo punto Ah Le avrei Piuttosto Veramente Cercate Sulla wiki Quei Le mostriciattoli Non l'avessi trovato Ve l'avrei detto Ma Visto che Sarebbe stata Una gaff Tristissima Perdersi Dopo tutto Questo spettacolo Proprio Il mostro Del bestiaio Che ho confuso Per le distese Urlanti Ma Come Con il dispiacere Della wiki Della dama No? Però Ecco Credo non sarà necessario Avremo una cosa Super pulita E sono Ups Commosso All'idea Allora Perché c'era Del legno Qui? Beh Se sgamo qualcosa Come al solito Ragazzi Vi farò sapere Promesso C'è una cosa qua Che non mi sconfiffera Vedete che c'è Vedete? C'è un'oscurità C'è un'oscurità Particolare Lì Però Non ci si riesce Ad andare Abbastanza In alto Questa è davvero L'ultima mappa Ho fatto tutto Ci siamo quasi No Fermati 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 No 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 Il dash Niente Ok Ok Potrebbe essere Una cosa Che mi sto perdendo Stavolta Strano Ma non mi viene in mente Veramente nulla A dopo Ragazzi E voi E voi E voi Continuano a esserci Ok ragazzi Ci siamo Spero di non aver esplorato Quest'area Più svogliatamente Delle altre Ah Devo ancora andare qua Perché Non lo so Non essendo un gioco Con equipaggiamenti Non essendo un titolo Che ha Altro di quello Che è chiaro O quasi Penso che Ecco Forse Possibile Che abbiamo mancato Alcune di queste Abbiamo raggiunto Tutti i dialoghi Al massimo Del Degli idoli Non credo Forse manca qualcosa Due oggetti Qua in basso Oh no Forse non ci darà Un amuleto Ma un oggetto chiave Speciale Che ci permetta Di Far cosa Nah Dobbiamo Basta speculare Prendiamoci il nostro premio Wow Guardate che roba Oh Ok Ha finito Quanti soldi sono? Ti prego Sì Nulla? Finisce così? Ok Ragazzi Guardate Guarda Contiene la gratitudine Delle larve In procinto di passare Allo stadio successivo Della loro vita Conferisce alle armi Una forza sacra Non è? Quando la salute Al massimo Della cui Scaturiscono Bianchi raggi No Non mi dire Che anche qua Hanno messo la citazione De Legend of Zelda Eh ma Si ottiene un po' Tardi No? Onestamente In Hollow Knight Sono talmente blind Che non ho idea Se esiste Un Se esiste Un New Game Plus Detto Papale papale E Distinto direi Di no Ah forse si Ma senza le abilità Di spostamento Perché Si spaccherebbe Come Poco Allora Io a te Vorrei tanto portare Il fiore bianco Ma non lo faremo Nell'episodio Backtracking Adesso Adesso Ragazzi Ci siamo Ci siamo davvero Voglio dire un paio di cose Prima di salutarci Ma lo faremo dopo Dopo Aver compiuto Questo grande passo Ho sbagliato È il villaggio distante Mio vecchio amico Ci ho preso Ma non è un Non è un grande Premio Se si è ricordato Qualcosa che già si sapeva Volevo dirvi una cosa Una cosa molto importante Davvero per me Cruciale Voglio sapere la vostra Io sono abbastanza sicuro Di aver lasciato Cosa indietro In questo Backtracking Contemporaneamente Però Non mi sarei mai aspettato Di riuscire in blind run A completare Hollow Knight Così tanto Mi è sempre stato detto Che il completismo È molto 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 speciale In Hollow Knight Ci sono dei segreti Assolutamente Indecifrabili E non credo di averli colti Tranne forse Forse L'aver trovato Però in quel caso È stata molta fortuna Anche Quel Passaggio segreto Attraverso L'anima reale Faratemi sapere Voi Ovviamente Non sto dicendo Che Completare in blind run Così tanto Perché effettivamente Il bestiario Gli amuleti Le mappe Che altro Abbiamo Abbiamo sgamato Di impressionanti Abbiamo visto i trofei La scorsa volta Insomma Sono perfettamente pronto A dirvi senza problemi Che sì È chiaro Non ho fatto una cosa banalissima È stata un'esplorazione Competente Sono molto contento Del risultato Sono emozionato Del risultato Però Contemporaneamente Non so ancora Quanto ho mancato Non so ancora Quello che ne penserete Di prima Kito Rispetto a quello Che mi aspettavo Avrei dovuto fare Off screen Per l'ultimo episodio Off screen O comunque in live Per l'ultimo episodio Vedremo Io Sono Davvero Davvero contento Ma non so Cosa ho lasciato Alle spalle Tecnicamente Ora che abbiamo Questo Sigillo nero Questo vuoto Questo nostro Aver ottenuto La nostra Totale consapevolezza No? Di ciò che rappresentiamo Il ricettacolo Dovremmo Poter aver sbloccato In teoria Un boss Un finale segreto Qualcosa No? Ovviamente Se la bestia All'interno Della caverna Si scoprisse Essere un super boss Sappiate che Ci saluteremo Ovviamente Sarà mio piacere Onore Fare il prossimo episodio Non so ancora Dì se l'ultimo Perché ripeto Credo che dentro l'uovo Possa esserci un'altra dimensione O qualcosa del genere O forse Semplicemente A questo punto Ci siamo fatti un'idea Vero? Quindi insomma Qualunque cosa Qualunque ricettacolo Sia là dentro Dovremmo Eppurarlo? Aia Ok Però Da lì Non saprei dire Nient'altro Su quello che è successo Oggi qui Solo che sono Ops Sono veramente Tanto contento Ma ci tengo Molto di più A sapere La vostra Scusate Ragazzi Veramente Mi Mi Permetto Tutto Oggi è qui Sono Veramente Veramente Cotto Dire che mi si incrociano gli occhi È un terribile eufemismo Ehm Beh Ok Forza Ok Ok Dovevo ucciderne cinque Giusto? Ne manca uno Ci vediamo dal bestione Ma prima C'è lei Che dite? Proviamo Alla faccia del range Vediamo un po' Se il range Cambia qualcosa Ok Noi ci sediamo Ci Arriva Poco oltre il burrone Ok Sì Ha effetto Ma è irrilevante Quando si ha questo oggetto Completamente Irrilevante E si è full Ovviamente Allora Presumendo Che il bestione Sia una super boss fight Io direi Sì Me la sono meritata Mio caro Questa benedizione È per te Con il tuo continuo supporto E la tua bellezza sorprendente Te la sei più che meritata Non ci credo Un dono benefico di salubre Amore e bellezza Circondano chi è benedetto E Cosa fa? Amori ma usso Amori ma usso Che bella collezione varia e colorata Sei riuscito a mettere insieme O la sei unisseto Anche più attraente Con tutti quegli amoletti scintillanti È bellissima Pensavo apparisse qui No in effetti E dove posso Benedizione Benedizione Dobbiamo andare dal negoziante A vendere l'ultimo Oggetto Anche se il diario non vale L'altro sì Ok Allora Allora Ok Visto che ora Non ho più la bussola Dobbiamo scoprire cosa fa la benedizione La cosa che mi viene in mente più banale La classica Certo averla permanente è molto figo Ma dovrebbe essere tipo un Quando ti manca una sola maschera Puoi subire un danno in più Oppure hai il 50% di possibilità Di risuscitare Di Oppure no Di Hai il 50% Il 30% Di possibilità Che la tua ombra Torni da te Insomma Cose del genere Cose del genere Allora 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 Ci Vediamo La Ragazzi Ci vediamo La Ok 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 Non ho controllato ragazzi Ma dovremmo esserci Pronti Oh no Oh no Cosa manca Cosa mi manca Dopo questo episodio avrò bisogno di una disintossicazione Perché tra l'altro ho giocato talmente tanto a Hollow Knight senza combattere Che è quello anche il problema Il duck tracking a modo suo è terribile In certe cose Chi sei Chi sei Oh no Oh no Oh no Oh cavolo Ai 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 Questa è grave Ah Questa fa male Proprio Proprio all'anima del videogiocatore Ci manca qualcosa di 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 completo Un lato di me vorrebbe tanto che fosse il boss finale E che magari una volta ottenuto il boss finale No 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 Oh ragazzi Che botta Qualunque cosa ci manchi Ci manca davvero E quindi è chiaramente un boss perché Ah beh non è detto Se dentro l'uovo c'è tipo veramente la fornace della prima fiamma Quindi un'area finale Ci saranno mostri nuovi Ah io questo lo levo Non sono stato qui E non sono stato qui Non ce l'ho fatto Non ce l'ho fatta veramente Io spero che non mi penta amaramente di questa parzialità Ma il resto l'ho esplorato Fin dentro veramente Le mutande ragazzi Non ce la faccio più Allora È fatta Quello che dovrò fare adesso sarà Cambiarmi gli amuleti Prepararmi una build survivability E nel prossimo episodio Portare i fiori Quello che volevo dirvi per chiudere La puntata Lo faccio con la facecam Appunto Ragazzi Quello che volevo chiedervi era Questo backtracking È andato sicuramente un sacco bene Non Lo dico per quanto forse la quinta volta Non mi aspettavo di trovarmi dinanzi a questo Non mi aspettavo di ritrovarmi dinanzi a quei trofei Alla scorsa volta Ma Lasciate che vi dica una cosa E lasciate che poi io lasci a voi la parola Per dirmi quanto è giusta E quanto è l'equilibrio in percentuale Tra me e il gioco Appunto Il gioco Hollow Knight È uno dei titoli che mi ha dato più premi Per sapere esplorare Per saper cogliere i suoi indizi Degli ultimi anni È veramente pulito Onesto Chiaro L'unica cosa non molto chiara È la storia E questo è uno dei pochi videogiochi Di questo tipo di narrativa Che avrei gradito avere un po' più concreti Perché mi piace molto Il modo in cui è realizzato Mi piace molto Qui non c'è la panchina Mi piace molto Mi piace molto Sono Illuminato da una luce diversa Però vedete che è già serale Vi siete fatti un'idea del tempo che è passato? Io Io davvero sì Ho dato un'occhiata all'ora Fellow Knights Nel prossimo episodio Andremo Per cominciare All'universo divino Per vedere quante medaglie di boss ci mancano A questo punto E poi vedremo Cosa accadrà qui Al nostro caro Ferale Nemico Non lo so Sembra simpatico però Da come scrive Il bestiario lo leggeremo Ormai è Completo Ma porca miseria Manca qualcosa Potrebbe essere il boss finale Potrebbe essere altro Per esempio Se ci sono boss unici All'interno del DLC divino Valgono Per l'MPC Ora che la versione definitiva è uscita Ai 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 Beh E dico boss unici Perché abbiamo visto che nel Pantheon Ci sono i nostri cari Già Maestri Allora Alla prossima Allora Ciao 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 Grazie a tutti